buongiorno buonasera a seconda oggi vi faccio vedere 3 ny pro master quindi citizen chiaramente partendo da quello che ha un po fatto iniziare il tutto che possiedo eccolo qui è il nostro ny 0040 nato nel 1997 quello storico ma lo vediamo tra poco nel 2020 una bella release un upgrade credo di poterlo definire sotto ogni punto di vista rispetto allo 0040 lo 0100 anche questo lo vediamo dopo e per ultimo uscito un anno fa nel 2022 un po più di un anno fa questa special edition per l'asia detto anche fugu e lny 0 110 io non vi voglio fare vedere le confezioni perché abbiamo la solita bomboletta che è molto kitsch che è molto anni 80 che è molto voluminosa e che io non amo in modo particolare quello che voglio farvi vedere è invece la qualità chiaramente di questa anzi di queste casse ribadisco ny 0040 uscì nel 1997 se non ero l'anno dopo la presentazione del famoso skx secondo me hanno un po anzi si sono un po ispirati in citizen a quella cassa quella famosa di seiko cassa slim però chiaramente adeguandola un loro stile che ha poi diventata un po come dire identificativa della serie ny queste tre casse sono quasi identiche non del tutto cambia qualcosa nelle anze ma possiamo definirle quasi uguali uguali anche nella loro rifinitura lucida lucida quella dello 0040 quella dello 0 110 entrambi in acciaio bellissima quella del super titanio quindi dello 0 100 è infatti di titanio citizen nella lavorazione non è seconda assolutamente a nessuno a mio modo di vedere e guardate che bella che è meravigliosa la rifinitura lucida che riescono a ottenere con il super titanio bravi citizen per quanto riguarda le dimensioni sono praticamente uguali per lo 0040 e per la versione titanio 0 100 praticamente uguali non del tutto uguali cambia lo spessore infatti è circa un millimetro in più quella in titanio la versione titanio la versione tradizionale 0040 per così dire a 13 millimetri e quasi 14 lo 0 100 l'acto lag entrambi 48 diametro entrambi 42 50 invece l'acto lag del fugu 44 di diametro lo spessore torna a scendere rispetto allo 0 100 infatti è di 13 millimetri il peso il più pesante e il più vecchio chiaramente regolato al mio polso sono 136 grammi di peso mentre la versione titanio braccialata e la versione più grande in acciaio ma con cinturino gomma 106 quindi entrambi 106 grammi girando l'orologio vediamo delle scelte differente tutto lucido retro cassa e fondello sullo 0040 tutto spazzolato per quanto riguarda lo 0 100 quindi titanio chiaramente anche il fondello e cambia rispetto allo 0040 il fondello è più muscolare più angolare io lo preferisco se devo essere totalmente sincero ritroviamo un fondello molto simile ma arricchito dal disegno del pesce palla del fugu sul 0 110 però vedete il retro cassa torna a essere lucido cosa comune a questi tre orologi beh sicuramente il dato di resistenza alle profondità sono tre diver certificati iso quindi strumenti professionali chiaramente 200 metri le ghiere sono tutte e tre con inserto ghiera in alluminio tutte e tre perfettamente allineate con il quadrante chiaramente parlo di indici 0040 0100 60 scatti io chiaramente mi aspetto 60 scatti da un orologio del 1997 però io ho apprezzato particolarmente che l'abbiano proposto riproposto nel 2020 sullo 0 100 un po più ruffiano il 110 con 120 scatti che oggi sembra andare per la maggiore funzionano tutte e tre benissimo hanno tutte e tre dot luminoso a proposito faccio che anticipare il discorso sulla luminescenza verde 0040 verde 0 110 azzurro 0 100 però il dot è verde quindi non mi piace c'è un po' di incoerenza per quanto riguarda la versione titanio sicuramente il più funzionale dei tre è il fugu lo 0 110 abbracciano tre vetri due sono minerali quindi 0040 quella dello 0 100 finalmente sul fugu abbiamo il vetro zaffero e questo è un bel upgrade per quanto riguarda i quadranti ragazzi 0040 e 0 100 molto simili lo vedete dagli indici però abbiamo uno svecchiamento abbiamo un colore più giovane abbiamo l'effetto soleil parlo chiaramente dello 0 100 vedete che abbiamo delle sfere con dei punti rossi sicuramente è più luminoso più moderno e probabilmente anzi sicuramente più attuale più da 2020 il fugu invece con questa ghiera pepsi quadrante nero cambia completamente lo vedete negli indici abbiamo i bicchierini abbiamo una mutandone più allargata insomma è un po' snaturato rispetto alla versione originale però io lo trovo altrettanto affascinante ora cosa ci rimane da raccontare bei movimenti e lo stesso su tutte e tre ragazzi standard miota 82 0 3 tutti e tre nel caso specifico non hanno fermo macchina è un muletto entry level di casa citizen miota insomma fa quello che fa ed è il movimento che ha sempre equipaggiato praticamente questa linea così ha scelto citizen e le tre corone chiaramente sono tre corone a vite un po' più anonima quella dello 0040 abbiamo invece il logo su quella se non ero in titanio dello 0 100 bellissimo il pulsantone che esce che si espone in modo importante al di fuori della cassa con questa zigrinatura eccezionale io trovo che sia uno dei punti di forza del fugu per mettere al polso questi tre orologi tre scelte diverse abbiamo un cinturino o gomma sullo 0 110 sicuramente di qualità più alta rispetto al cinturino in gomma in alternativa proposta sullo 0040 a proposito su questo abbiamo un braccialato che io trovo indegno dell'orologio gravemente insufficiente lo sapete non lo amo tutto l'amierino ma anche i finali anche la cassetta è rumoroso taglia e strappa i peli insomma un disastro assolutamente migliorativo anche dal punto di vista del materiale ricordo che anche il bracciale è costruito in titanio sullo 0 100 in questo caso maglie piene finali pieni una cassetta fatta in un altro modo beh assolutamente meglio comfort al polso il peggiore è lui lo 0040 mi spiace dirlo sarà il più rappresentativo di tutti però a causa del bracciale sferraglia taglia i peli come detto no e poi anche un po più pesante 136 grammi come sopra indicato il fugu è comodo pur essendo più grande a livello di volumi quindi bisogna un po fare attenzione al polso ma grazie a questo cinturino devo dire che è molto comodo quello assolutamente più equilibrato è la versione titanio il 110 perché 106 grammi su un bracciale così piacevole anche a contatto con il polso beh c'è poco da dire è quello più equilibrato a proposito di bellezza non bellezza più meglio questo quale preferisci beh sono tutti e tre molto belli sicuramente 0040 tradizione 0 100 un miglioramento forse della tradizione lo 0 110 si cambia lo vedete parecchio anche appunto grazie agli indici alla corona molto più sporgente insomma degustibus se devo essere sincero io quello che preferisco in assoluto quando l'ho al polso da guardare è appunto l'asian special edition beh concludiamo come modo molto semplice sono tre orologi bellissimi io credo che ve ne siano tante altre di referenza ny pro master belle varie colorazioni c'è full lume ce ne sono tante in titanio anche insomma potete sbizzarrirvi anche con le limited edition l'unica certezza che ho che almeno uno in collezione va tenuto ditemi la vostra ditemi se ne avete quanti ne avete quali avete un saluto alla prossima ciao 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 Grazie.